Motore, partito! Buio in sala, appuntamento al cinema con Francesco Gesualdi. Ma dice a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ma pure i cartoni animati? Certo, anche quelli. Eccoci qua con il tradizionale appuntamento con Francesco Gesualdi perché tutto il resto è cinema. E allora Francesco diamogli dentro, via. Allora, l'altra volta ce l'eravamo dimenticati, dobbiamo lanciare il quiz. Hai voglia. Oggi abbiamo a buio in sala un ospite che a me personalmente sta particolarmente a cuore. Si tratta di Gianni Cavina. Del grande Gianni Cavina. Che è straordinario interprete di questa fiction televisiva che sta andando in onda su Rai 1. e sta raccogliendo un successo veramente importante. Ecco, durante questo incontro, questa chiacchierata che noi faremo con Gianni, citeremo alcuni dei suoi film. Gli ascoltatori che risponderanno ricordando almeno due film che citeremo nella chiacchierata vinceranno due ingressi per la mostra di Cinecittà, una mostra che consiglio al di là del quiz a tutti gli amanti del cinema perché si entra nel magico mondo della celluloide. Fantastico. Et voilà. Fantastico. Allora, sentiamo se abbiamo in linea Gianni. Sì, pronto. Eccoci. Ciao Gianni. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. A salute, Gavina. A salute. A salute, a salute. Senti, ma stavate parlando di icona di bellezza prima, quindi parlavate di me. E c'è. Esattamente di te parlavamo. Poi io vorrei ricordare a Gianni. Io lo conosco, Gavina, ma non gli dico perché in questo momento perché è un affaire molto privato, ma abbiamo avuto frequentazioni. Ah sì, eh? Mi chiamo Micci, ti dico solo questo. Buongiorno Micci. Grande Gianni, vai. Buongiorno. Gianni, io sono molto legato a te, tu non lo sai, perché io il primo set che ho frequentato nella mia vita è stato Bordella. Che meraviglioso. Era l'estate del 75, il film poi, grande opera di Pupiavati, bellissimo. E tu facevi il Pugile, se non mi... Il Pugile, esatto. E c'era il set vicino alla stazione Termini. Era uno dei trombatori professionisti. Esatto. E lui era il più indicato, se non che aveva erezione no, capito? Erezioni no e per la disperazione di erezione no, poi alla fine mi impicco con dei precedenti e rimbalto per due giorni. E' geniale. Solo la nostra follia allora, quella di Pupiavati, si poteva fare una sceneggiatura così. Io ti ho seguito nel set di Tutti i defunti tranni morti, che ricordo agli ascoltatori romani, è un film di culto, perché Azzurro Scipioni lo programma da non so quanto tempo. Un paio d'anni, credo. Tutti i giorni c'è tutti i defunti tranni morti. Ho dei grandi ricordi, eh. Devo dire, la casa delle finestre che ridono. No, ma non ha dei grandi ricordi, è ancora un grande futuro. È certo. Perché è uno dei più importanti. Anche perché adesso parliamo del presente. Eh beh, il presente stamattina sono in fibrillazione, perché ho ricevuto dieci minuti fa, prima della vostra telefonata, ho ricevuto la telefonata dalla RAI con gli ascolti che sono entusiasmanti. Che stai vicino ai 6 milioni o l'hai superato ieri? 7 milioni e 3 milioni. Dai! E dai! Grande! Con il 27, quasi 28% di share, quindi... No, veramente una bellissima... Guarda, io ho pensato di chiamarti proprio dopo la prima puntata. Ho subito chiamato Paola Comin, che sta facendo l'ufficio stampo, ho detto, voglio parlare con Gianni. E perché è una bella fiction, un cast di straordinario livello? Facciamogliela raccontare a Gianni, per coloro i quali, quei pochi che non l'hanno visti, dai. Beh, insomma, c'è da raccontare una cosa di grande livello, grazie agli sceneggiatori Ivan Cotroneo, Monica Rametta, Stefano Bises e grazie soprattutto alla grandissima regia che questo è un talento vero di Riccardo Milani, è uno con le palle, si può dire. Hai voglia, certo. È uno straordinario. Io sono tornato in televisione dopo molti anni di assenza, grazie a Milani perché mi ha preso per fare una partecipazione, mi ha voluto per forza, in Le Sorelle Fontana e poi è nata una collaborazione con Riccardo eccezionale. Devo dirti che dopo Pupi Avati questo è il regista che mi ha confortato di più. Ecco, quindi questa storia è una storia completamente atipica, nuova per la televisione, anche se la famiglia, famiglia, mica quella, mica la famiglia. No, mica The Family. No The Family, è una famiglia tradizionale con tutti i risvolti ironici e sentimentali, ma con un grande mistero e questa è la cosa secondo me vincente della storia, non la voglio chiamare fiction perché non è una fiction. È un film, è un lungo film. Con presunzione devo dirti che sono sei film da un'ora e quattro. Esatto, esatto. Ho avuto il conforto di Pupi Avati che mi ha visto le prime due puntate e mi ha chiamato, non è mai tenero con me su livello professionale e mi ha detto delle cose molto gratificanti, gli è piaciuta molto e quindi sono veramente, stamattina sono su un piedistallo perché alla mia età devi sapere che si comincia a pensare già da qualche anno che probabilmente il lavoro va a calare. Ma non credo proprio, peraltro tu sei anche sceneggiatore Gianni, ci hai messo mano a questa cosa, hai dato del tuo? Ho dato del mio privatamente non sulla scrittura ma con Ritardo Milani durante le riprese che mi ha massacrato perché ho fatto sette mesi di riprese con alcune giornate, con sei scene e io parlo molto, la memoria, ecco la memoria mi ha aiutato, è miracoloso ma io ho ancora una memoria fantastica ed è il grande vantaggio di una carriera con un vecchio attore come me se hai memoria sei a posto, capito? Ecco io ieri ti ho potuto apprezzare in modo particolare in quel dialogo tu e la Piera degli Esposti quando chiami Serafina e gli chiedi se ancora ti puoi fidare di lei, ci sono quelle due, quella scena, quello sguardo tuo, lei con quegli occhi rassicuranti ma tumurosi, è qualcosa, è grande cinema, hai ragione. E' che lei è un incontro eccezionale, pensa io sono di Bologna e Piera anche, non abbiamo avuto incontri se non all'inizio proprio in teatro lei e io con una cosa di Bernard che poi ci siamo dimenticati tutti e due l'ho rincontrata qua e devo dirti che è come quando giochi a pallone, se di Franco hai dei grandi giochi meglio. Hai voglia, hai voglia. Senti Gianni tu hai vinto Un Asso d'Argento come miglioratore e non protagonista con Festival di Pupi, ecco è il film in tutto il tuo collaborare con Pupi Avati che è enorme, è il film che ti sta più a cuore o no? No 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 onestamente no perché non me ne frega niente dei premi, non li ho mai vinti, non me li hanno mai dati, quello è stato un caso e non so perché è successo, te lo giuro, è una grande sorpresa. No 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 non sono, io sono molto molto legato a Regalo di Natale. Io te l'avrei dato per quello. Io sono legato a quello, sono legato alla Via degli Angli, è un altro film che non è andato benissimo come regalo ma che mi è rivisto nel cuore perché è un film di Pupi molto molto, che sento molto insomma e questi sono diciamo i film che mi legano di più a questa professione. Io per tornare un attimo alla tv ti ricordo e ti ho apprezzato molto nel commissario Sarti l'umanità che sprizzavi in quel personaggio. Ma poi me l'hanno segato perché hanno dovuto dare dei vantaggi agli spettatori più giovani, tu pensa che volevano fare allora il giovane Sarti, non il giovane Montalbano, pensiamo alla follia, dici tu arrivi, fai i primi 15 minuti e poi te ne vai e lascia il tuo posto a tua nipote. Dico no col cazzo, non ci penso finemente, ho rifiutato e non si è fatto il lavoro. Mi ricordo che poi avevi quella spalla straordinaria, mi pare si chiamasse Rosas, il tuo pseudo investigatore che ti raccontava, devo dire c'era molta umanità in quel film. Anche lì, scusa, poi ti lascio andare avanti, ma la fortuna di avere un attore come Schirinzi di fianco, che poverino, se ne è andato in un modo drammatico qualche anno fa, è un ricordo non bello, non lo voglio neanche ricordare. Invece io ti voglio riportare ad un ricordo dolce, con una di partita precoce, quale quella è stata comunque di Lucio Dalla. Tu con Lucio sei stato un ottimo amico, un sodale straordinario. Avete fatto una volta una cosa insieme e Dalla disse, lui recitava, io cantavo, fu un insuccesso clamoroso. Perché ci eravamo sbagliati, io cantavo e lui recitava e non veniva nessuno a vederci, l'abbiamo capito troppo tardi però. Che meraviglia, meraviglia. Io devo dire che ti ho apprezzato anche molto nel recente Gli Amici del Bar Margherita, anche lì molto bolognese, belle atmosfere. Sì, sì, non era male neanche quello, come sempre con la mano di Pupi, perché non c'è niente da fare, è miracoloso. Io mi chiedo come fa a continuare a scrivere due o tre storie l'anno, perché fa tre film l'anno, adesso sta facendo una cosa per uno, anche quella in sei puntate, ha una vena pubblica che non finisce mai, non so dove la va a prendere. Forse dipende dalla ricchezza della sua vita, Gianni, è un uomo che sta vivendo. Dipende molto dal suo ricordo, lui ha questa memoria della sua vita straordinaria e la capacità di trasformare questi ricordi in film, insomma. E poi mi piace molto, devo dire, di Pupi il lavorare in gruppo, lui ha uno zoccolo duro di attori che quindi sentono molto le atmosfere e la sensibilità di Pupi. Beh, ma come fanno tutti i grandi, no? Tu guarda che... Pupi è davvero un grande, ti dico che basta adesso, dopo tanti anni, io ho fatto quest'anno 43 anni di collaborazione con lui, non mi ricordo quanti film, credo 18, 19, 14 sceneggiature, per cui io arrivo sul set. Mi basta una sua occhiata che ho già capito dove devo andare a parare. Io, prima di salutarti, voglio dire una cosa a chi ci sta ascoltando, ma non è né piageria e né perché ti ritengo una persona talmente perbene e di grande talento artistico, che sei una delle tante vittime italiane, per esempio. No, no, ma lo penso veramente. Allora, faccio un parallelo. In America ci sono i famosi caratteri, no? Ci sono i Vincent Gardinia, ecco. Allora, se Gianni Cavina fosse nato in America, va bene, sarebbe stato per eccellenza uno di questi caratteri, proprio tipo il Gardinia citato, anche fisicamente, hai capito? Sei convinto di questo, Gianni? È verissimo, mi leggo molto a alcuni attori americani, sì, mi leggo molto. Sono nato in Italia e ringrazio Dio perché la professione continua a darmi soddisfazioni, ma in quel paese probabilmente avrei avuto più possibilità. Molto di più. È probabile. Io comunque ammiro in maniera forse nata Morgan Freeman. Eh beh. Solo che lui è nero, io un po' meno, però spesso cerco di copiarlo. Sai che quando lo vedo lo studio e ripeto le battute? Ah sì. Ah sì, studio moltissimo. Quindi hai ragione, hai ragione. Quello è un paese che ti dà tantissime possibilità. Ma anche il nostro oggi, e poi vi saluto e vi abbraccio, io pensavo, ti ripeto, che andando avanti con l'età sarebbero diventate meno le occasioni in questo paese, perché in Francia no, quando hai raggiunto una considerazione si mantiene, te la mantiene il pubblico e la critica. Qua invece sono destinati a cancellarti, pensano che sia importante cancellarti e eliminarti. Io invece sto dimostrando a me stesso più che altro che questo è un mestiere che puoi continuare fino alla morte, se l'hai fatto con grande professionalità. Grande, bravo. Grande Gianni, grande, grande, grande. Ti continueremo a seguire tutti i lunedì fino alla fine di questa vincente saga familiare. Complimenti Gianni, grazie. Ci tengo perché cresce, il lavoro diventa più bello dalla terza puntata in poi. Perfetto, una grande famiglia. A salute Brichel, a salute Brichel. A salute ragazza. Ciao, ciao, grandissimo. Gianni Cavina.